La parola Pierluigi Bersani segue Carla Cantone. Grazie. Ma io se mi scappo un po' i minuti, vado perché sono tre mesi che ho voglia di dirlo. Ero sul tetto a prendere il tacchino. Ma io capirete, cerco di dire, quando dico noi intendo il PD e suggerirei che a chi vuole essere una minoranza attiva, consiglierai sempre questo codice, per fin di linguaggio. Noi dobbiamo immaginare la prospettiva dei nostri grandi ideali, eccetera, dentro il PD, giocando ancora la grande scommessa del PD. Allora, io vado per punti sommari. Dopo le elezioni di un anno fa, noi, che abbiamo un fisico incredibile, abbiamo buttato il cuore dell'ostacolo e ci siamo dichiarati sconfitti. E io non ho obiettato, ho solo detto, vabbè, però attenzione che tocca a noi. Adesso, noi, nel Parlamento, nel Governo, in tutto il sistema delle autonomie, siamo noi. Siamo noi davanti ai problemi e davanti al Paese. Mi pare evidente perché ci siamo solo noi. Berlusconi è andato ai margini, vedremo come finirà questa vicenda, spero che adesso sia ormai chiaro perché. Perché? Perché in quel nuovo Parlamento c'è un rapporto di forze che non consente leggi ad personam. Punto. Da lì è venuta la spaccatura della destra, è venuto tutto da lì. Grillo, in questo Parlamento, e ci abbiamo lavorato fin dall'inizio, eccetera, si è trovato di fronte, un po' perché c'era, un po' che ce l'abbiamo messo davanti al bivio, o partecipare, o dichiararsi impotenti. Quindi siamo noi. Io dicevo e dico, allora, prima cosa, dobbiamo essere all'altezza di questo compito, noi tutti. E guardate che in questi mesi qualche punto, qualche colpo, l'abbiamo sbagliato, no? E non sto facendo del moralismo, sto parlando di politica. E non dico solo le vicende del Presidente della Repubblica e neanche la vicenda, che ho detto, inelegante, di come è stato il passaggio di testimone fra i leader, fra i primi ministri. ma anche nei comportamenti ormai quotidiani e diffusi. Attenzione, di non dare l'idea che noi trasmettiamo un messaggio di una politica cinica. Attenzione, perché noi sediamo l'idea a una politica cinica e spresiudicata, mentre contrastiamo l'antipolitica, l'asseminiamo. Dobbiamo dare l'idea di una compagnia di gente per bene, che nella misura in cui esprime di senso, parla, chiacchiera, eccetera, tuttavia ribadisce un tratto di fondo, di lealtà, di responsabilità. Se no la cattiva nomea della politica noi l'asseminiamo. E quindi un richiamo a tutti, a un modo di discutere, come si dicevano a volte, discutere fra compagni, discutere fra amici, trasmetterle questa cosa. Secondo, quindi tocca a noi. Tocca a noi vuol dire sapere bene in che fase siamo. Io ho apprezzato molto le cose che ha detto Gianni in questo proposito, perché qui c'è qualcosa di fondo che sta succedendo, cioè la cronaca di tutti i giorni, a volte tutte le cronache non ci fanno vedere che c'è, stiamo vivendo un passaggio storico noi, di profondità storica. Noi siamo dentro una fase ormai ventennale dell'irrompere di un nuovo grande ciclo tecnologico e di un processo impetuoso di mondializzazione. Ancora c'è questa cosa. E questa cosa viene prima della crisi e sopravviverà la crisi, essendo la crisi il prodotto dell'egemonia liberista di questa fase. Ma la fase continuerà. E questa fase ha dichiarato la quasi inutilizzabilità, esagero un po', della democrazia a base nazionale, senza peraltro offrire un altro modello di democrazia rappresentativa a base continentale o planetaria. Il liberismo pensa che i fenomeni della globalizzazione, i vettori, si autoregolino, alla buon'ora. Abbiamo visto con la finanza come si autoregolano. Allora questo ha già creato sul piano economico e sociale dei contraccolpi micidiali, soprattutto dove c'era il baluardo dell'equilibrio sociale nella fase precedente, l'Europa. ma ha creato anche un fenomeno europeo in primis, ma anche mondiale, basta vedere com'è la discussione in India in questo momento sotto le elezioni, è un fenomeno, diciamo così, di ripiegamento difensivo, di disamore, di ricerca di scorciatoie, di personalizzazione, tutta quella marea di novità che riassumiamo in modo imperfetto e approssimativo nella categoria dei populismi. Questo è avvenuto. Davanti a tutto questo la sinistra in tutti questi anni si è trovata effettivamente spiazzata sul piano del progetto, perché la sinistra in fondo è stata la massima interprete di quel welfare a base nazionale, di quegli equilibri che abbiamo conosciuto come grande conquista, che sono stati schiaffeggiati da questa nuova fase. E quindi la sinistra a ricercare di nuove strade e sono venute fuori delle varianti. Una delle varianti che io definirei così per semplicità, la variante ottimistica, è una variante che riconosce il processo di mondializzazione, ne sottolinea gli aspetti di individualizzazione, quindi carica tutto sull'autorealizzazione, sulla redistribuzione, ma delle opportunità, cogliendo certo degli elementi veri, di dinamismo, di novità che ci sono in questo fenomeno, ma ai miei occhi finendo in un esercizio retorico, una volta ci sarebbe detto apologetico della situazione. e poi invece un'altra sinistra, così anche per semplicità possiamo chiamare più egualitaria, nella quale io per esempio sono iscritto dalla nascita, che mantiene alta la critica a questo processo di globalizzazione, fino a volte a esagerare in venature pessimistiche, questo bisogna riconoscerlo, ma che non ha trovato ancora una chiave di elaborazione per riuscire a incrociare la questione di un nuovo welfare, la questione di meccanismi distributivi con i processi di mondializzazione e di globalizzazione. Allora, anche se poi queste due sinistre si ho schematizzato, ma delle volte si incontrerebbero anche facilmente, perché, che ne so, lavoro, flex security, opportunità e garanzia, la danese, tutti d'accordo, noi, Renzi, tutto quanto, Poletti, e soltanto quando ci sono i soldi, c'è un piccolo particolare, che se no avremmo risolto. Ecco, quindi, si è davanti a scelte difficili, complicate. Allora, questo lo dico perché dire che se tocca a noi, e qui vado sulle cose che diceva Gianni, ma noi dobbiamo trovare, allestire rapidamente dei luoghi di confronto e di approfondimento e di discussione, perché non possiamo mettere vecchie ricette, francamente, su temi che sono cruciali. Stiamo parlando della democrazia rappresentativa, stiamo parlando del lavoro, stiamo parlando degli assetti di welfare, stiamo parlando delle politiche pubbliche. E quindi occupiamoci di questo, troviamo il modo, tutti quanti assieme, di mettere in campo gli approfondimenti e di darci i tempi anche necessari, perché con le vecchie ricette non ce la facciamo. Terzo punto, tocca a noi. Adesso ci sono rapporti di forze per fare le riforme. Io vorrei sconfiggere in radice, diamoci una mano, sconfiggere in radice, questa leggenda metropolitana per cui gli dicono, ma voi fin qui non si è fatto... No, no, ma fin qui c'era Berlusconi. Fin qui c'era Berlusconi. Cioè non è che il PD ci ha dormito, il PD ha fatto le co, ha presentato progetti, lei ha fatto tutto quanto, eccetera. Adesso ci sono, ci sono, c'è l'occasione, il rapporto di forze per mandare avanti le riforme. Le riforme devono andare avanti per baco. O, rapidamente dico, ma non sbrigativamente, perché ci vuole lo stesso tempo a fare la cosa giusta e quella sbagliata. Cerchiamo di capirci. Ci vuole lo stesso tempo a fare la cosa giusta e a fare quella sbagliata. Allora, riforme. Di cosa stiamo parlando? Beh, in prima, c'era qui Gualtieri, prima di tutto questa cosa dell'Europa. Va benissimo dire noi non siamo l'alunno dietro la lavagna, noi siamo un contributore netto, noi siamo uno Stato fondatore, noi siamo i secondi della manifattura. Tutto strabene. E mentre si dice questo, naturalmente tutto questo ragionamento non può poi declinare solamente sul, diciamo, chiedere uno sconto. Perché non stanno assieme queste due cose. Quindi sconto è nel quadro di una piattaforma da costruire, partito socialista, europeo, eccetera, anche con governi, con santa pazienza e determinazione. E questa piattaforma, guardate, poi ci metteremo anche l'utopia dello sviluppo dell'idea europea, per amor di Dio, che dovrebbe essere, diciamo così, dovrebbe essere quel presidio che fa della mondializzazione non una condanna, ma un progetto. Ma quello lasciamolo sullo sfondo. La piattaforma deve prevedere alcune cose. Forme di mutualizzazione, non già del debito, ma del servizio a una parte del debito, perché ognuno deve pagarselo da sé, ma ci sono modi per alleggerire la somma. Secondo, investimenti, che siano Eurobon, che siano investimenti per dare lavoro, perché le regole solo non danno lavoro, le regole da soldi del lavoro non danno lavoro. Terza cosa, un po' di armonizzazione dal punto di vista fiscale, perché ormai è mica solo una questione di paradisi fiscali, anche in Europa c'è il fenomeno per cui la ricchezza se ne va, è mobile e la povertà è stanziale. Cioè questo è il meccanismo. E qui bisogna fare una battaglia con una piattaforma. Riforme, istituzioni, leggi elettorali. Io credo che sul tema del Senato adesso, io credo che bisogna trovare le chiavi per arrivare a una soluzione. Perché non possiamo esporci c'è la cosa che si blocca un processo di questa natura. Poi dopodiché, guardate, io non vado adesso nel merito, ci servono n cose da dire. Io credo che adesso tutte le proposte che sono, che sono state messe in campo anche da personalità nostre, io ecco, inviterei per favore Matteo, quando va in tv, non dire a certi nostri compagni, amici eccetera, che loro obiettano perché vogliono tenersi gli emolumenti, eh? Perché queste possono suonare come anche... Cioè c'è gente che ha la pelle sottile su questi punti qua, giustamente. Ecco, e si arriva anche a percepire come se arrivasse un'offesa sanguinosa. Questo non è possibile, no? Allora ragioniamo, chiudiamo, vediamo che tutte le proposte possono avere un luogo di discussione, troviamo la conclusione. E una volta che avremmo fatto questo, ribadisco, c'è da rivedere la legge elettorale. Cioè, questo vorrei... Io mi sono svegliato e capite, avevo cosa, avevo pensato, ma magari sto ancora, diciamo, no? Perché uno dice... Cioè, stiamo dicendo sul serio che a un certo punto sostanzialmente politicamente c'è una sola camera. Uno ottiene un mega premio di maggioranza, un po' con le sue forze, un po' mettendo assieme in modo vario delle liste che non possono eleggere parlamentari, quindi non si sa perché, diano una mano, vedremo cosa vorrà dire, eccetera, eccetera. E da quel momento lì, col 52%, quei parlamentari nominano il Presidente della Repubblica, i membri dell'accordo funzionale, i membri del GSM, eccetera, essendo a loro volta quei parlamentari, fatemelo dire, abbastanza nominati. Dopodiché, hai visto mai che già noi abbiamo già sperimentato in parte, ma arriveranno anche gli altri, che si facciano poi delle primarie non regolate per plebiscitare il nominante universale. Ecco, io non ci sto, eh, a una cosa così. Ecco, quindi, una volta, ecco, una volta chiarito, una volta chiarito che l'assetto istituzionale, eccetera, avviene in un certo modo, potrebbe avvenire in un certo altro modo, non avviene in questo modo, ecco, questo punto ne discende, che noi dobbiamo correggere, ridando lo scettro al principe, prima di tutto, e consentendo ai cittadini di scegliersi il parlamentare. Guardate, poi, le forme, ma vanno bene tutte a questo punto, quella roba lì, poi togliendo, ci sono sette, otto cose da correggere. Oh, no, e ci vuol mica, e si è rapidi, eh, perché non ci vuole molto, ecco, non ci vuole molto, e perché su queste cose non si può scherzare. Riforme in campo economico e sociale, bene, secondo me, anche, e non chiamiamo demagogica anche queste sforbiciate che si vogliono dare, perché, eh, voglio dire, che ci siano cose dal punto di vista stipendiale, cose, eccetera, che non girano, eh, è così, c'è poco da fare, ecco. E quindi, bene questa questione qui dell'IRPEF. Naturalmente c'è un nocciolo duro, e lo vediamo, no, fra queste ambizioni, queste cose, uno legge il DEF e capisce che abbiamo, pur anche il DEF non essendo esente da qualche ottimismo, eh, tuttavia ti mette davanti a dei problemini dove la crescita è quella che è, il carico fiscale resta quello che resta, e poi trovami tu 17 miliardi l'anno prossimo senza sforbiciando, cioè, ecco, allora qui dobbiamo sapere che quando parliamo di riforme bisogna che andiamo un po' più in profondità, un po' più in profondità, e i campi fondamentali che noi dobbiamo dissodare sul tema della riforma andando in profondità sono, primo, ancora, l'assetto fiscale, il tema della fedeltà fiscale, secondo, la pubblica amministrazione che non è una corsa dei 100 metri, è dei 1.500, dei 5.000 e non si risolve se non con piani industriali di ogni singola amministrazione supportati da strumenti da fare che riescono a alleggerire il carico e aumentare la funzionalità. Con meno di questo, sforbiciate che c'ha i capelli, sa che ricrescono, non è che, ecco, ecco. Terzo punto, investimenti e politiche industriali, perché c'è il tema della crescita, cioè noi abbiamo perso 23 punti di produzione industriale, 9 punti di PIL, prima di, a zero virgola, di riprendere sta roba si fa fatica. Qui ci vogliono alcuni strumenti non convenzionali, anche riferiti a politiche pubbliche attorno al tema dei drive industriali. E ci vuole un po' di coraggio in queste cose. E poi non lo affronto, ma la carburante di questo processo sta anche nei diritti civili, eh. Qui bisogna risvegliare un po', e lì Gianni ha fatto bene a sottolinearlo. Ecco, ecco. E l'ultima cosa, sapete ormai, credo di avervi tediato in questi anni su questo punto, è, ma non ultima, è il tema del sistema politico, guardate. Noi non caveremo fuori piedi dalla crisi strutturale, dal declino di questo Paese. Se non rideremo fiati in modo moderno, finché si vuole, a una politica che sappia prendere delle scelte, tenere ferme le decisioni, e non si affidi al fuoco del momento. Noi, da Tangentopoli, da Caduti del Muro in poi, come sistema, noi Italia, noi Italia non l'abbiamo risolto. E siamo sempre a soluzioni che hanno la precarietà dell'estrema personalizzazione, che lasciano vuoti d'aria, che lasciano incompiutezze, che ci consegnano sempre un gioco dell'occhio dove ricominci, da capo, il PD controcorrente, io continuo a pensare che deve essere la medicina esemplare di questo fatto. E non accetto più, non possiamo più accettare, siccome tocca a noi adesso, di dire ma noi ce lo risolviamo noi questo problema in casa, noi per quel che riguarda noi, perché noi facciamo le primarie così, per le parlamentari, perché facciamo, 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 facciamo. No, adesso noi dobbiamo occuparsi del sistema, occuparsi del sistema. Per esempio, tirare la cinghia, perché tutti tirano la cinghia, deve tirarla anche la politica, ok, ma cancellare dalla testa il finanziamento pubblico dell'attività politica non è accettabile, non è accettabile. E su questa cosa bisogna tornare. Grazie a tutti, eh. Ciao.